Actor Day, l'attore di Dio, questo è il nome del musical sulla vita di Padre Pio, scritto da Attilio Fontana e Maria Grazia Fontana, Francesco Ventura, Antonio Carluccio e Michela Andreozzi, che andrà in scena domani, 21 luglio, alle 21.30 sul palco dell'Inora Village. Lo spettacolo che ripercorre le tappe della vita del santo di Pietrelcina vede in scena 45 giovani artisti, tra attori, cantanti, ballerini, diretti da Bruno Garofalo con le coreografie di Orazio Caiti. Un racconto della vita di Padre Pio che si svilupperà su alcuni grandi momenti, dall'infanzia al miracolo delle stimmate, la sua vita a San Giovanni Rotondo fino alla morte della madre, le difficoltà nel far nascere la casa sollievo della sofferenza fino alla sua completa realizzazione. A interpretare il frate con le stimmate sarà Attilio Fontana, che è anche l'autore e il direttore musicale dello spettacolo.